Lei è una delle 100 imprenditrici che ha partecipato al progetto Network Donne d'Impresa, ecco come è stata la sua esperienza? Ho trovato questa esperienza davvero molto arricchente, sia dal punto di vista professionale perché ci ha dato comunque una sorta di canavaccio, di gestione, del management, del marketing e delle attività di impresa che è utile per imparare con molto allenamento a non lavorare in affanno. È stato arricchente anche dal punto di vista personale perché ho incontrato molte donne coetanee e anche di età più grandi che hanno raccontato la propria esperienza e che hanno condiviso le loro soddisfazioni o anche le loro difficoltà con tutte noi e quindi abbiamo portato a casa un bagaglio personale molto importante. È stato davvero un progetto che rifarei anche subito.